Oggi parliamo di come affrontare la concorrenza, perché nel mercato di oggi la concorrenza è davvero sempre più spietata, soprattutto più numerosa. Non ci sono mai state tante attività come oggi e il fatto che i concorrenti sono praticamente in qualunque parte del mondo, alla distanza di un click, questo rende tutto ancora più difficile. Allora, quello che noi dobbiamo fare, per forza in qualunque tipo di business noi siamo, è obbligatorio, si tratta di analizzare e conoscere i nostri concorrenti. E non si tratta di spiarli come fa qualcuno, ma di capire cosa offrono, cosa non offrono, quali sono i loro punti di forza e i loro punti deboli. Questo perché ci permette di trovare il nostro posizionamento, ovvero proporci in modo più convincente rispetto ai nostri concorrenti. Questo è fondamentale. Ovviamente per farlo dobbiamo aggiungere il nostro valore unico, cioè cos'è che noi offriamo, cos'è che noi abbiamo di diverso, che altri non hanno. Può essere qualunque cosa, da una caratteristica del prodotto a una politica di sostenibilità particolare che può colpire un determinato tipo di persone. Quindi è fondamentale avere un qualcosa che ci identifichi e che ci rendi unico. Poi dobbiamo tenere in considerazione che qualunque tipo di business si basa sulle relazioni. Le persone devono avere fiducia e la fiducia si costruisce con la relazione. Quindi che tu sia un brand, che tu sia un libro professionista, che tu abbia un'azienda, le persone devono fidarsi della tua azienda, del tuo brand, di te, eccetera, prima di diventare dei clienti. Quindi è importante creare un piano di marketing che vada a creare questa fiducia. Più il prodotto venduto è costoso, il servizio venduto è costoso, quindi più grande l'impegno che le persone devono sostenere, più forte deve essere questa fiducia. E ovviamente per fare tutto ciò non basta essere diversi, iniziare a costruire delle relazioni piano piano, ma bisogna sapere comunicare in maniera efficace proprio per far capire come siamo diversi e costruire queste relazioni. È fondamentale. Quindi oggi rifletti su questi, chiediti se stai analizzando effettivamente i tuoi concorrenti, se è qualcosa di diverso da loro e se lo stai comunicando in maniera efficace costruendo queste relazioni. Se non lo fai, sappi che il tuo business può crescere ancora tanto. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo un consiglio. Ricorda che tu sei unico o unica, sempre. Ognuno di noi è diverso e delle qualità che qualcuno apprezza. Quindi non dobbiamo cercare di imitare altre persone, ma dobbiamo semplicemente essere noi stessi e comunicare quello che noi siamo, il nostro prodotto è o la nostra azienda è, in maniera totalmente trasparente. Questo offrirà clienti che sono realmente interessati a noi. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao! 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 Ciao!